il power di Crispo accadente Marcello ma con l'avventura del T-Motan vuole dire la sua serie aumenta a 650 km sono pochi di retro è indicativo del passo che il stiro non è di ritrovo e a rendicare il tempo di piano parliamo di un po' e dei il momento ma non si è margine quando mancano 9 il filo è messo alla varia anche se è sganciato all'ervale dell'aula e anche norma della tavola abbiamo il tabacchi che ha praticamente superato al momento il tabacchi rocca